Buona solitudine! Scusa! Scusa! Io? Ma ci abita qualcuno lì? Io abito qualcuno... Ah, lì! Sì, sì, ci abita qualcuno! È un tipo... Un tipo un po' strano! Arrivederci! La tazza! E' proprio una bella giornata, vero signorina? Charlie! Ehi! Mi senti? Charlie! Vabbè... Ieri sera non sapevo cosa fare E dato che non ti fai mai vedere Ho deciso di provare a immaginarmi la tua faccia E ho fatto un diviso Ci ho preso? Ci ho preso? Sei tu? Charlie! Dai! Rispondimi! Vabbè! Niente! Charlie! Vabbè! Vabbè! Ciao! Vabbè signorina! Che fai di bello? Vabbè! 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 Non sei uno a cui piace parlare, vero? Allora facciamo un gioco! Io ti faccio un gioco! Mi faccio vedere tutti i miei quadri e tu mi dici se ci assomigli. Mi fai un colpo per il sì e due per il no. Va bene? Così? Sai così? Sì. 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 di piacere grazie a tutti